Anche la Procura della Repubblica per i minorenni potrebbe aprire un fascicolo sul caso di cyberbullismo accaduto martedì scorso, primo giorno di autogestione, all'Istituto Alberghiero Saffi di Firenze. Un giovane ha ripreso il fondoschiena di una studentessa 17enne mentre ballava con un'amica, dopodiché ha fatto girare su WhatsApp il filmato che si è rapidamente diffuso tra centinaia di ragazzi, raccogliendo commenti osceni. Il padre della ragazza ha sporto due denunce ai carabinieri, una per la divulgazione delle immagini e l'altra per ingiurie, difamazione e minacce. L'autore del video, rapidamente identificato, si è scusato e sta eseguendo lavori socialmente utili disposti dall'Istituto. Ma su quanto è accaduto al Saffi vuole vederci chiaro anche l'ufficio scolastico regionale che ha chiesto all'alberghiero un'indagine approfondita. In base a quello che emergerà, decideremo quali iniziative adottare contro il cyberbullismo, dice al Corriere filentino il vice direttore Roberto Curtolo. Ci faremo aiutare anche da polizia, magistratura, servizi sociali, perché questo evento è il sintomo di un malessere amplificato dall'uso dei social. Il caso verrà portato anche all'attenzione del Consiglio Comunale di Firenze dal capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi, perché, dice la nazione, il cyberbullismo può avere effetti irreversibili e drammatici sulle vittime.